amici di youtube ben trovati da marco ligueri in un periodo decisamente denso di eventi sismici segnaliamo l'ultima violenta scossa in ordine cronologico ma prima di saperne di più vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video con gli occhi del mondo puntati su ciò che è accaduto in giappone oltre 200 vittime in uno dei terremoti più forti negli ultimi tempi purtroppo le scosse di terremoto nel resto del mondo non si accennano a placare in questo video parliamo di una scossa che ha colpito la parte nord dell'albania una violenta scossa di magnitudo 4,7 è stata avvertita anche nella provincia di brindisi la scossa è avvenuta pochi minuti dopo mezzanotte ribadiamo una scossa molto violenta di magnitudo 4,7 il secondario marco ligueri vi terrà aggiornati su i prossimi eventuali eventi sismici ovviamente come diciamo sempre la speranza è quella di narrarne sempre meno amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti grazie a tutti